Buonasera a tutti amici di Horror Italia 24, come state? Ho fatto un acquisto a 75 centesimi su ebay, non è uno scherzo, non è una promo per nessuno spot pubblicitario, ma è la verità. Però c'è il trucco, perché questo acquisto da 75 centesimi che ho fatto e che mi è arrivato oggi in questo pacchettino giallo, nasce in realtà come un acquisto che ho fatto perché avevo un buono sconto di 4 euro. Quindi io effettivamente ho pagato 75 centesimi per una cosa che costava 4 euro e 75, avevo questo buono spendibile, me ne ero dimenticato e mi sono ricordato di questo buono a 10 minuti prima della mezzanotte in cui sarebbe scaduto. Quindi avevo 10 minuti di tempo per spendere perché avevo voglia di utilizzare questo buono, una volta che ho un buono sconto da ebay, non è che volessi pagare il meno possibile, semplicemente non avevo molto tempo per fare le ricerche che di solito mi impegnano parecchie ore quando voglio cercare inserzioni particolari. E allora, pochi minuti prima della mezzanotte, sono stato costretto a consultare la mia lista degli oggetti osservati su ebay. C'erano alcuni DVD horror, ci ho pensato un po', alla fine c'era questo a 4,75 e ho detto sì dai, questo mi interessa davvero, mi incuriosisce, prendiamolo. Quindi ho pagato 75 centesimi e adesso mi è arrivato e lo voglio spacchettare insieme a voi. Credo che sia questa la busta, perché non è che c'è scritto ebay, è ovviamente inviato da un privato, però non c'è nemmeno bisogno di forbici. Allora, Premetto è un film che io non conosco, cioè nel senso non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto ma l'ho preso perché c'è un perché. Abbiamo tirato fuori una cosa che mi poteva servire ma persa, perduta, niente, va bene lo stesso. Ok, già aperta la confezione, già aperta la busta, vi svelo il mio acquisto da 75 centesimi. Poi voglio il vostro giudizio su come avrei voluto investirli meglio, però fatto sta che ho deciso di acquistare. Da-da-da-da-da-da-da. Coming soon. Coming soon è proprio il titolo del film, non è un arriverà presto, un qualcosa che non c'è. Coming soon, sottotitolo. Lo spettacolo sta per cominciare, ci sono ancora posti liberi. Siamo in una sala con questi cadaveri, zombie, morti. Questa persona impiccata e questo spettro. Allora, 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 che dire, vabbè niente, dentro c'è chiaramente il DVD, ci siamo, vi leggo il retro. Shan e Yod sono due proiezionisti che affiancano le loro attività regolari una seconda occupazione da pirati, rubano copie dei film che proiettano per immetterli sul mercato nero. Quando però lo fanno con il film Evil Spirit che racconta dell'inciaggio di una donna pazza accusata di aver accecato le bambine del villaggio, gli eventi narrati e la realtà cominciano a confondersi in modo inquietante. Yod sparisce così senza lasciare traccia e Shan si rende conto di rivivere nella realtà strane scene del film. Allora, 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 avevo tirato fuori, lo vado a prendere perché sono sicuro che sia da qualche parte qui, anche se è stranamente scomparso. Avevo tirato fuori un DVD della mia collezione, che ha fatto una fine misteriosa, che si intitola Shatter, film tailandese Shatter. Magari qualcuno di voi conosce Shatter del regista Ban Yong Pisan Thang Koon, un regista interessantissimo della Thailandia che è riuscito a far uscire Shatter in DVD in Italia, ogni tanto lo danno anche in televisione. e ha fatto anche un altro film che mi piace tantissimo, non ho mai capito se esiste in formato fisico che si chiama Alone, ne voglio parlare prossimamente, Alone per me è bellissimo. Ecco, qui con Coming Soon siamo nella sua stessa scuola, siamo sempre in Thailandia e Ban Yong ha a che fare con questo film. Credo come produttore, non come regista, perché quindi c'è Sapon Sukapikst, quindi, non so se ho pronunciato bene, credo di no. Quindi mi sono fatto, in realtà, influenzare molto da questo cineasta tailandese, che mi piace, però non mi ha mai deluso, di cui mi devo recuperare altri film, perché ho la filmografia davanti su Wikipedia, c'è un PMAC del 2013, non ho mai visto, quindi è roba inedita, però i due che sono arrivati da noi mi erano piaciuti. E questo Coming Soon credo che sia uscito solo in DVD, cioè non me lo ricordo, né al cinema, né nemmeno in televisione, a differenza di Shutter e di Alone. Distribuito dalla defunta Wave e da Denit, quindi, insomma, etichette che a volte hanno pescato molto bene all'estero, soprattutto in Asia, e che dire, questo era un video flash per farvi vedere questa pazzia di qualche giorno fa, sono curioso, fatemi sapere se tra voi c'è qualche eroe che conosce questo film, fatemi sapere come avrei potuto investire meglio questo denaro e niente, ci vediamo al prossimo unboxing, ciao a tutti ragazzi!